Per l'amministrazione provinciale si sta delineando uno scenario di potenziale squilibrio generalizzato, pur avendo applicato correttamente i principi contabili, come riporta la delibera firmata ieri dal presidente Mirko Signoroni. La causa è l'emergenza da contagio del Covid-19 e le misure prese dal governo, con l'effetto di una fortissima riduzione delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali, al limite dell'azzeramento dell'imposta automobilistica di trascrizione e della quota sulla RCA Auto. L'ente di Corso Vittorio Emanuele II è quindi costretto a rinegoziare i mutui a carico, accettando la proposta della Cassa Depositi e Prestiti. Sono 156 i mutui rinegoziati per un importo di 75 milioni, utilizzati soprattutto per lavori stradali e di edilizia scolastica. Per il pagamento verrà seguito il metodo alla francese, cioè posticipando il pagamento delle rate a partire dal 30 giugno 2021, con una quota di interessi più alta all'inizio, mentre la quota capitale all'inizio è più bassa e poi cresce progressivamente. L'ente provincia quest'anno risparmia 3 milioni e 200 mila euro, rimanendo però non meno vincolato di prima alle dinamiche bancarie. La rinegoziazione è conveniente e necessaria, ma non sufficiente a garantire l'equilibrio a fine anno, conclude Signoroni nel documento approvato, in attesa delle risposte del Governo e della Regione. Anche il Comune accusa il colpo della crisi, avendo dovuto rinunciare a ben 10 milioni di entrate tributarie. L'Istituto del Credito Sportivo ha stretto un accordo nazionale con Abi e Anci e così ha consente a sospendere il pagamento delle rate dei comuni per il 2020. Non saranno pagate da Cremona le rate per un totale di 211 mila euro. La Giunta Galimberti ha accettato l'offerta l'altro ieri. Sono 10 i mutui sospesi che l'amministrazione riprenderà a pagare dall'anno prossimo per colmare il debito residuo che supera il milione di euro.